E tutta la notte dentro una stanza... Padre Maurizio, per favore, la divisa, se puoi rimandarla più presto qui alla stazione. Per la stazione! Eh! Andiamo, Maurizio, andiamo, andiamo, andiamo! Cotton Bag di Somma, vi presenta... Non ho più sopracciglia. Dove sono le mie sopracciglia? Eccone qui, signore. Scuola di Polizia 3. Un film a urlo. Martedì, 20 e 40, canale 5. Ciao, sono la nuova segreteria telefonica Swatch. Due ricevitori, una segreteria, tutto in un telefono. Lasciate un messaggio. Swatch Twin Tum. È da piccoli segnali che si capisce se siamo o no in riserva. Ci vuole un aiuto naturale ed equilibrato per mantenerci sempre al giusto livello di efficienza. Kinder Cereali, la natura dei cereali, l'apporto nutritivo del latte e la bontà del cioccolato. Kinder Cereali, la ricarica naturale, a portata di tasca. Professione cane. Per lui la carne, le proteine e le vitamine dei bocconi fito. Per te la sicurezza di pensare alla sua salute. Nissan Primera vince la sfida. Quale sfida? Pensa tutto il giorno al volante e non me ne sono accorto. Sì, e la sfida? Comodo, rilassato, andavo, andavo. Sì, ho capito, ma la sfida? La sfida? Eccola, qualità, tecnologia, prezzo. Cioè? Sospensioni multilink, servo sterzo, motori di albero 16 valvole, 3 anni o 100.000 km di garanzia. Se non mi credi in forma. Sì, e magari 4 metri elettrici e chiusura centralizzata. Certo, è Nissan Primera. Una gamma catalizzata da lire 20.320.000 chiavi in mano. Panorama festeggia 30 anni con uno straordinario regalo. I libri inchiesta. Questa settimana, America, America, dove va il più grande paese dell'Occidente. Esclusivo, Sfratelli d'Italia. Montanelli lancia l'allarme secessione. Panorama, da 30 anni al servizio del lettore. 20 secondi. Che cos'è Ottobre Rosso? Avete paura di Ottobre Rosso? 10 secondi. Volete scoprire dove si nasconde? Quanto tempo credete di avere? 6 5 4 3 2 Impatto sicuro. Sean Connery. Caccia Ottobre Rosso. In Prima TV, prossimamente, su Canale 5. 6 6 6 8 8 9 8 9 9 10 10